Niente, il Tottenham di Ange Postekoglu colpisce ancora un parametro zero dallo Shakhtar Donetsk, sì, proprio lui. Manor Solomon, un trequartista, un'ala prevalente mentre gioca a sinistra, ma predilige anche la zona centrale della trequarti e portarselo a zero. Non dico sempre che è un colpaccio, ma siamo lì, ecco, dalle indubbie qualità tecniche il giocatore israeliano e... pazzesco. Visite mediche già fissate. E niente, a tutti gli effetti un giocatore del Tottenham, Manor Solomon. È stato campione d'Ucraina nell'ultimo anno con lo Shakhtar Donetsk e... E niente, non è più giovanissimo, mi pare abbia 25-26 anni, chiamoli. Poi, se sbaglio l'età, mi dissocio da questa cosa, mi scuso, però la notizia è questa. Se conoscete il giocatore, per voi è un colpaccio o no? Ripeto, dribbling da paura. Sullo scatto forse ha qualcosa in meno. Però attacca anche molto bene di reparto. Lui accompagna bene l'azione e... Ha un discreto tiro a giro, se è quel che mi ricordo. Un colpo... Che può andare bene. È una simile scommessa, ecco. Per voi. Manor Solomon farà bene al Tottenham? Io spero di no. Però... Però può far bene. Può far bene. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da me è tutto. E... Aspettiamo altre ufficialità. Non lo so se porterò altri video. L'importante è non stare mai fermi. Portare... Minimo un video al giorno. E... E dai. Arriviamo ai 1.500 ragazzi. Continuate ad iscrivervi. E... Niente. Alla prossima. Con un nuovo video. Manor Solomon. Un nuovo giocatore del Tottenham. Bella.